Sì, certo! Vedi una lentezza Mario? Ma che cazzo? Cioè lo fa di pianissimo eppure... Sì, sì, ma per te il contro George, ti cagli addosso. E questo è il punto, ti cagli addosso santissimo. Non fermarti, entro, vedesci. Entro lì dentro. Buona, buona così. Buona attacca, guardate qui con le spazio. Buona attacca, guardate qui con le spazio. Buona attacca, guardate qui con le spazio. Bravi tutti!